però la radio non dà nulla mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso ma io dico ma la radio ma la radio qui cos'è è andata in ferie si è presa 10 minuti di pausa ma non ho capito ma donna mia ora sono morto praticamente perché cazzo no invece no e invece no e invece no minchia invece si madonna mia